Ciao, sono Alessandra di Ennegan Luce e Gas. Devi lasciare il tuo appartamento, lasciare un fondo commerciale oppure devi chiudere l'attività? Oggi sono qui per aiutarti a gestire al meglio le tue forniture di luce e gas. Solitamente noi consigliamo al cliente di procedere con una voltura in favore di un subentrante, questo ovviamente per permettere l'abbattimento dei posti di chiusura e riapertura di un contatore e per garantire la continuità della fornitura. È ovvio che se questo non è possibile siamo sempre a vostra disposizione per procedere con la chiusura dei contatori di luce o di gas. Restiamo sempre a vostra disposizione, potete contattarci tramite consulenti oppure al numero verde a voi dedicato. Spero di esservi stata utile, a presto!